Musica E benvenuti ragazzi e ragazzi sono Anima e bentornati in questo mio nuovissimo video Oggi siamo tornati su venerdì 13 ma con un video un pochettino più particolare come avrete letto dal titolo Oggi vi farò vedere una cosa particolarmente strana dove ovviamente non bisogna abusare si può provare ma alla fine non è quello lo scopo del gioco Che sono riuscito a scoprire casualmente guardando un altro giocatore che era in quella partita con me Che mi ha chiesto di seguirlo e mi ha fatto vedere questo glitch o questo bug Cercando su youtube ho visto che questo non è l'unico glitch esistente e ne hanno scoperti un sacco di altri Quindi mi raccomando se li volete vedere su prima i 50.000 mi piace e ovviamente con questi video che si portano il gioco stesso fixerà questi problemi e questi bug Inoltre fatemi sapere nei commenti se questa tipologia vi piace un pochettino diversa ogni tanto Piuttosto che fare sempre tutto il live in modo divertente e scendiamo giù subito con le spiegazioni Ok innanzitutto la mappa è Pakanak Lodge Ovviamente si può fare tranquillamente sia come personaggio quindi come sopravvissuto la persona che deve sopravvivere E sia come Jason Se guardate la minimappa e ovviamente in questo caso fortunatamente sono sponato vicino alla casa grande infatti come potete vedere dalla minimappa dove c'è la macchina Siete già sulla buona strada anzi pensavo di essere sulla buona strada La cosa migliore è sempre prendere la mappa per cercare di guardare perché io mi sono sbagliato in diverse partite La casa grande quella gialla cambia La cosa vostra principale sia che avete o sia che non avete la mappa è seguire il nord che si vede appunto dalla minimappa in basso a destra Seguendo quello trovando anche il campo con il falò Troverete infatti si vede qua dalla minimappa dove c'è quella specie di cosa scoscesa Guardando la mappa comunque sta tutto sulla destra Troverete questa questa specie di dirupo lo vedete comunque seguendo sempre la minimappa dove c'è il falò E se non c'è il falò ci sta la casa di Jason quindi dovete stare attenti Seguendo lì guardando appunto il gameplay potete vedere che facendo zig zag su queste rocce qua Voi riuscirete ad uscire dalla mappa dove ovviamente non è possibile farlo E ovviamente Jason non potrà seguirvi a meno che non conosce il bug ma questo lo vedrete dopo Tanto qua la gente continua a scappare La casa dove sto segnando il mouse ci sono le due case In questo caso la casa è quella sbagliata ma può sponare anche in basso a destra la casetta gialla Che vi potrebbe aiutare più facilmente Ovviamente si può anche riscendere potete riprovare riprovare tutte le volte che volete Ma ci sono delle cose importanti che dovete sapere Adesso siamo sopra siamo fuori dalla mappa lo potete vedere appunto dalla mappetta piccola La cosa che vi consiglio è di non correre o di non scattare con la X con il tasto X Ma soltanto di camminare perché infatti vedete ci sono gli alberi che sono bugati Siamo sopra il monte rispetto a dove poi Jason e tutte le persone possono giocare Correndo purtroppo ho ricevuto e ho dovuto riprovare una spiacevole sorpresa Ovvero quella di morire Hanno tra virgolette fixato questo problema che comunque se corri o se vai più veloce della camminata Muori stando fuori dalla mappa Adesso siamo in un gameplay con Jason che ho rosicato malissimo perché non avevo ancora capito il perché fossi morto E quindi anche con Jason come potete vedere si può tranquillamente andare Correre ma non è finita qua perché tutto più avanti poi Ecco infatti anche qua Jason correndo è morto Sono tutti è la prima volta che Jason fa scappare tutti perché Jason muore riesce a morire senza cose strane Comunque c'è sempre come riferimento quella specie di cosa curva nella mappa da destra E come potete vedere non c'è il falò non c'è il campo del falò State attenti perché in questo caso ho beccato la trappola di Jason e Jason mi ha sgamato E Jason ha anche scoperto il trucco lo vedrete tra pochissimo Potete entrare nella casa di Jason nel caso appunto non ci sia il falò con le tende Potete prendere il suo maglione della mamma diciamo Che è sempre per fare il procedimento per ammazzare Jason e tutto così In questo caso sono riuscito a scappare facendo ovviamente il glitch il bug Chiamatelo come volete voi Solo che Jason appunto mi ha visto ed è riuscito a emularmi a fare quello che ho fatto io Ed è successa una cosa ancora più stramba del bug perché nel tentare di scappare Mi sono incastrato e anche lui si è incastrato Lui cerca come potete vedere di colpirmi di fare tutto E io non ci credevo ho detto o era capace e conosceva il bug Oppure Non lo so ha visto e ha fortunatamente riuscito perché non è una cosa comunque complicata Ad andare a sinistra a destra a zig zag Lui qua cerca di prendermi io mi inciampo giù mi buggo E lui riesce a seguirmi e si bugga insieme a me Jason in questo caso ho scoperto anche che non può ammazzarmi con la presa Infatti per due volte di seguito sono riuscito a premere la e a togliermi dalle sue grinfia E ho anche tentato di fare delle cose un po' sconce lo vedete da poco Per cercare di non farmi ammazzare Infatti mi sono tipo adesso mi sono di nuovo liberato Sono tutto bugato ci sono anche i capelli bugati Sono riuscito comunque a liberarmi Ma con l'accetta purtroppo riuscivo ad ammazzarmi Mi sono anche appunto chinato cercando di non farmi colpire Ma io sia io sia lui eravamo bloccati in questa specie di promotore tra il fuori mappa e l'interno della mappa Quindi lui riesce ad ammazzarmi E consapevolmente lui con i suoi poteri Quello che si teletrasporta nella mappa riesce ad andare via Quindi lui si è riuscito a sbagare mentre io no Comunque questa è una nuova partita Ho detto ma non è che forse è correndo che sto sbagliando tutto E quindi sono riuscito a capire questo problema qua E c'è un altro consiglio che vi do Di stare esattamente come potete vedere qua Di stare esattamente il più vicino alla linea Quindi tra la mappa e il fuori mappa Per non cercare di andare troppo lontano Se andate troppo lontano morirete sicuramente Quindi la questione è proprio questa Di camminare stare il più possibile vicino alla linea del confine della mappa E si va avanti perché adesso arriva la sorpresa Poi alla fine io ve lo anticipo già Se andate avanti 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 troverete il mare E nel mare vi potete buttare e rientrare O comunque quando in ogni punto A meno che non vi bugate come prima in ogni punto Vi potete cacciare giù e rientrare nella mappa Però in fondo poi c'è il mare quindi tu puoi rientrare tramite le boy O comunque un posto meno ripido come questo Qua siamo altissimi Infatti c'era un'altra persona che ha cercato di emularmi Ma non capiva ovviamente come si potesse fare Era giusto per farvi vedere quanto noi eravamo alti rispetto agli altri E quindi Jason non poteva comunque una volta se mi avesse beccato Comunque venirmi addosso con i suoi poteri Poteva solo fare la stessa strada che facevo io Sarebbe stato troppo bello se fossi riuscito a trollarlo Anche se tra poco vedrete che riuscirò a trollare Jason Ma non sono riuscito a trollarlo nel fatto che lui magari poteva fare il bug Adesso qua si scende perché come potete vedere siamo ancora fuori dalla mappa Ma non volevo andare oltre troppo lontano Vedete ci sono proprio le rocce fatte male Si vede che siamo proprio dietro le animazioni che si possono vedere E quindi sarebbe stato bello se Jason avesse fatto il bug Avesse corso e fosse morto Però in questo caso era un po' complicato da fare Qua si continua si va avanti Ci sono tutti gli alberi qua Ancora tutto in regola diciamo Perché dopo vedrete proprio cose distorte La minimappa addirittura che si buggerà Seguendo qua ho voluto lasciare tutta la parte del gameplay Perché almeno vedete bene la strada che ho fatto Perché la sorpresa arriva tra pochissimo Qua c'è appunto il mini salto Qua Jason mi sgama Però ovviamente non può uscire E ho cercato di capire un punto dove lui mi potesse vedere Infatti lui ti pare Ma che cosa sta succedendo in inglese Ma che cosa Ecco qua esattamente siamo dietro alle rocce Cioè nel senso noi vediamo Cioè io vedo ma lui non vede Cioè lui sa con i poteri che sono lì Ma non mi vede perché c'è una roccia davanti Non c'è realmente il passaggio Siamo dietro delle rocce E appunto andando poco 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 più avanti C'è la casa di Jason Una seconda casa di Jason che non si può vedere Perché sta fuori dalla mappa E io ho ipotizzato Che fosse la casa quella dell'outro del gameplay Che quando Jason torna a casa dalla mamma Quando ammazza tot persone Comunque quando finisce la partita Si vede Jason che rientra a casa E che parla con la mamma La casa è esattamente uguale Ci sta il maglione che si può prendere Infatti io in questo caso l'ho raccolto E Jason qui come potete vedere Non c'è ombra Perché siamo estremamente addirittura Direi estremamente fuori dalla mappa Sto proseguendo andando avanti Sempre verso appunto il lago Dove ho detto che si può rientrare E arriva la parte divertente adesso Perché appunto Jason ci può vedere Perché non è tutta una parte Diciamo scoscesa Cioè non è tutta una parte montuosa Ma c'è anche la parte con lo steccato Ed eccolo lì raga lo vedete È lì che cerca di capire Ho detto ma come è possibile Come c'è arrivato questo qua dietro E qua ci sono altri due consigli utili Per trollarlo ovviamente L'importante è stare lontano dalla staccionata Lui non potrà prendervi Anche se vi avvicinate Lui non potrà prendervi Ma potrà colpirvi con l'ascia Se state proprio attaccati allo steccato Quindi dovete stare attenti sotto quell'aspetto lì Consiglio ovviamente di nuovo Di non abusare di questa cosa qua Perché insomma è una cosa solo illustrativa Che potete provare una volta Ma lo scopo del gioco è Sopravvivere Non stare fuori mappa E aspettare che finisca il minutaggio Per vincere Comunque qua lo sto aspettando Mi avvicino apposta Per farvi vedere che Può colpirci Stando attaccati Ma non stando più lontani E parte lo show ragazzi Lui che Io lo trollo con i petardi Lui che rimane lì E Stiamo proseguendo avanti Come potete vedere qua C'è la minima Pai che puggata La vedete tipo è nera Ma ai lati Vabbè Non so neanche Non mi sono avventurato Perché ho detto Sicuramente si muore Ma boh E siamo arrivati vicino al lago Mi stavo per buttare Ma il tempo è finito E mi ha dato l'icona Del sopravvissuto Come se fossi riuscito A scappare O a sopravvivere Comunque da qua Vi potete tranquillamente Buttare Arriva E ritornare Dentro la mappa Questo animalini male Era il video di venerdì 13 Con questo glitch bug Ripeto Ce ne sono tantissimi altri Ve ne faccio vedere Magari un altro 50.000 mi piace Per capire Se questo format Un po' diverso Vi possa piacere Grazie a tutti per la visione Per essere arrivati Fin qua siete migliori Vi potete iscrivervi al centro Guardare altri I miei due bellissimi videolati E noi ci si becca Ad un prossimo video Stay angry Stay animals Chut